Buongiorno, io sono Ayla, frequente Centro Comunitario Franco Rosetta. Sono qui a nome di tutti per presentare l'ambiente e le attività svolte nei vari settori. Manteniamo sempre il contatto con lei, ma in occasione dei 27 anni della Fundazione del Centro Comunitario abbiamo pensato di fare un video per farvi conoscere l'ambiente e le varie attività adesso andiamo a vedere. Il primo settore che andiamo a conoscere è la Chiesa, Dovioni John Pachiamo, un momento di pregare prima dell'ambiente e le varie attività. Questo è invece il settore della stagionazione con le varie attività. Buongiorno. Buongiorno. Qui è la segreteria e l'office della stagionazione. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la cucina dove si preparano i nostri pasti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.